Grazie, anche io vado abbastanza di corsa perché tra l'altro la presentazione, me la metti Giorgio, che faccio è un antipasto di quello che tratterò nella scuola di formazione. Sia ben chiaro, insomma ecco, oggi è un antipastino, però in questo antipastino devo dire questo, un tributo a Sergio, perché? Perché Sergio durante una delle primissime scuole di alta formazione alla Spezia, che io feci sulla adipocita, cioè il ruolo del tessuto adiposo infiammatorio, mi disse, fece un complimento meraviglioso, mi disse, ecco caro Mauro, oggi mi hai sublimato la biochimica medica in poesia, e mi disse, e devi fare una lezione sulla disfunzione endoteliale, che già era una mia passione, perché di fatto, ecco, l'ho detto, Sergio, te lo prometto, infatti l'anno dopo feci una lezione che poi negli anni ho sempre migliorato. Allora perché questo? A parte questo hai fatto vedere anche tu, quindi il nostro caro Siti Scacchi l'ha fatta vedere, però Sergio, giustamente, lui diceva sempre, credeva in quello che anche credevo io, cioè nel senso, ecco perché mantivamo i contatti con Sergio. La green therapy, cioè giocare sulla combinazione sinergica di stili di vita e sostanze, giocando su quelli che sono gli organi cruciali, perché quando un paziente vi entra e vi dice, buongiorno dottoressa o dottore, si sente, come sta la sua matrice extracellulare? Doveste chiederle. Come sta il suo endotelio, questi due organi? Ah non lo so, il suo intestino come sta? E a livello subcellulare come sta il suo mitocondrio o l'isosoma? Dice bene, a questo punto può vivere anche cent'anni, il problema è tutto lì. Allora, ecco, Sergio mi diceva, parlava sempre di stangio protezione, il stangio, dice, ma Sergio, il stangio, quindi istologicamente, sì certo, proprio nel macro, micro vaso devi lavorare sull'endotelio, perché lì c'è veramente il terreno di battaglia, fondamentale che parta da successo infiammatorio, da cui parte poi coinvolgimento immunitario, coagulopatia, ma anche oncogenesi, in pratica la patologia umana, senza parlare ovviamente del decremento di ATP a livello. Allora ecco questo, ora ve lo faccio vedere così, perché tra l'altro ho il modo di trattarlo poi ampiamente, la prima lezione che tra l'altro Giorgio mi ha dato l'onore, la prima lezione 14 di parlare per ben almeno 3-4 ore di questi argomenti, guardate là, l'endotelio, uno dice benissimo, organo vero e proprio, principale organo del mantenimento dell'omeostasi vasale, cioè terreno di battaglia, cioè oggi se vai in anatomia e dà un esame, e ti dicono, se a te Ciro ti dicono, è un tessuto, che gli dici Ciro? No, è un organo, è un importante organo, questo è un endotelio vascolare che ha molti ruoli in questa omeostasi, regolazione del tono vascolare, proliferazione delle cellule muscolari lisci vasali, risposte a infiammatori, emostasi, produce, rilascia sostanze vasoattive, vedete qua, tromboregolatrice e dei fattori di crescita. Ma allora guardate che bellezza, ma uno guarda e dice ma qui c'è tutto, c'è la famosa mitogenesi, lo scambio cellulare, intercellulare, la regolazione del tono vasale, la permeabilità vasale, l'angiogenesi, allora l'infiammazione, la fluidità ematica, la fluidità ematica dipende dall'endotelio, l'attività piastinica, il gioco endotelio-piastrine, da cui è nata l'aspirinetta peraltro, l'entità del flusso ematico e dimostra stimoli morali, nervosi e biomeccanici. E allora vedete che c'è sempre per esempio questo discorso, anche la contrapposizione, la contrazione del vaso e il rilassamento del vaso, dove ci sono degli attori, l'endotelina da una parte, l'angiotensina 2, del trombossano a 2 piastrinico e i famosi ROS, che ormai tutti conosciamo, ma che sempre dobbiamo ripeterci. Dall'altra parte abbiamo invece il monossido d'azoto, un gas che ha dato il premio Nobel in 98 e poi ci hanno fatto anche il Viagra, con quello ovviamente, perché anzi che avevano fatto il Viagra l'hanno messo subito il premio Nobel immediatamente, cioè è chiaro no? La flotta ciclina e anche i fattori iperpolarizzanti e endoteliali come l'EDHF, anche il petidonato, quindi vedete che questa bilancia, si gioca tutto lì, la bilancia all'endotelio, cioè la salute vascolare dipende dall'endotelio, è molto importante, macro, arterie, arteriole, capillari, ma tutto dipende all'endotelio. La vedete al centro, guardate, ma qui c'è la patologia umana, guardatela bene, angiogenes, ma anche c'è anche l'immunità, ogni volta nell'endotelio, basta pensare alla desidità dei trinfociti C e l'attivazione che subisce dopo, allora arriviamo all'endisfunzione endoteliale, quello di cui tratterò particolarmente nella prima lezione della scuola d'alta formazione. Di cosa si tratta? Una compromissione del vaso rilassamento endotelio dipendente, causata attenzione da una perdita di bioattività della produzione di nitrossido nella parete del vaso, contribuisce anche alla riduzione della prostaciclino, scusate, un errore, sintasi, cioè la produzione della prostaciclina, perché quando si dà l'aspirinetta, cosa si dice? Eh, allora, intanto speriamo ci sia il nitrossido, poi si dice, eh, blocchiamo il trombossano, ma salviamo almeno la prostaciclina endoteliale. E che famosi 50, 70, l'ho vissuto in questa fase, lavoravo sulle piastrine, 150, poi si diceva ieri a una collega, non si tiene mai conto però del peso, che uno dice, è un bove, dà di 150 a quello, non gli bastano. Allora, vedete, è uno sbilanciamento, eccola là, è la riduzione di questi, tutto lì, nitrossido e prostaciclina soprattutto, e ridurre questo significa proprietà anticoagulanti, aumento del rischio di trombogenicità, stimolazioni meccaniche endoluminali, per esempio uno stent. Dall'altra parte invece guardate, un'aggregazione plastinica favorita, una vasocostrizione, un'adesione leucocitaria, quindi non solo dei monociti, ma anche linfociti T peraltro, uno dice, ah, guarda questi meccanismi, ti stanno ricordando qualcosa, vediamo. E allora si dice, barometro del rischio cardiovascolare. Ecco perché doveste chiedere a tutti i vostri pazienti, come stai con l'endotelio? Come sta il tuo terreno di battaglia, da dove nascono le patologie cardio-cerebrovascolari? Eccolo là, si preoccupano per il colesterolo. Dottore c'è il colesterolo 200, e chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma è ossidato? Ossidato? O glicato? O omocistenializzato? Fumi? 35 siglietta al giorno, sei morto. Perché il tuo endotelio sta mangiando tutti i fattori, sta disattivando il pai, che non so le patatine, inibitori del plasminogeno. Cioè no, non si preoccupano di quelli, capito? Si preoccupano del colesterolo. Esatto, le voce, ci amostra sulle voette, se ne mangiamo due al giorno, comunque. Vabbè, è famosa questa cosa di me e Francesco. E guardate, quasi tutte le malattie, quindi partano dall'endotelio. Guardate la disfunzione endoteliale, guardate quanti fattori. Certo, l'omocisteina, interrata, tutti mi conoscano, ma insomma, anche ieri, quello lì, c'era una collega in sala, che lo vogliono, Pamela, dice, se non fosse per te, ma è usata, ginecologa, brava, dice l'omocisteina, ma ancora la non mi stanno in, perché costa poco fare la terapia, costa molto poco, capito? Poi il diabete mellito, certo, anche lei si preoccupa del colesterolo, non della glicemia, bella questa cosa, no? Dice la glicemia, no, ma qui la va bella, dice la glicemia, preoccupati di quella, non del colesterolo. E poi alla fine c'hai, guardate là, la disfunzione endoteliale, permeabilità, adesività delle cocite e le piastrine, sintesi molecoli attiattive, aumento, attiva procoagulante. Ma lo vedete poi al centro di tutta la patologia a cardio e cerebro vascolare, eccola là, c'è lui sempre al centro, perché da questa si va qui, non c'è niente da fare, si parte da quello. E quindi certo, tutti questi fattori, ipercolesterolemia, se ossidato, se modificato, glicato, e quindi se è ipertensione, ma certo, diabete, tutto, soprattutto direi questo, ma lo stress ossidativo poi si manifesta alla fine in una disfunzione endoteliale. Certi meccanismi, bisognerebbe spiegargli, step by step, ma saranno oggetto appunto della famosa lezione di alta formazione. E da lì, mediante il famoso PAI, per esempio, i fattori di crescita, o le citochine, l'endotelina, vedete l'abbassamento del nitrossido, si arriva a tutte queste situazioni fisiopatologiche che poi arrivano al culmine. Perché lo stress ossidativo, attenzione, perché lo stress ossidativo? Perché uno dice, ah ma il nitrossido protegge, si protegge, ma se c'è lo stress ossidativo purtroppo si trasforma in perossi nitrito, che va a ossidare la LDL, riduzione del nitrossido diretta da lui, e poi c'è la famosa azione. Cosa fa l'ossidazione dell'LDL? Notate bene, lo vedremo tra poco. Guardate, pensate che hanno visto che durante la vita i livelli di nitrossido, guardate il lavoro, da 20 anni, 100%, dopo i 60 anni, ce l'hanno del 15%. Sapete cosa vuol dire questo? Una ridotta capacità antitrombogena. Naturalmente gli altri, non noi che facciamo prevenzione, chiaramente si sta parlando di questo. E allora guardate, famoso Ross, professor Ross, quello che ha definito la telosclerosi, dice questa è una superficie anticoagulante, così dovrebbe essere l'endotelio. Altra prostaciclina, altro nitrossido. Ma invece eccoci, no ci dovrebbe essere un altro, eccola, invece quella cattiva, disfunzionale, si abbassano questi due, aumenta l'MPC1, sapete cosa è? è il fattore di richiamo dei monociti. Richiama i monociti, li fa passare sotto l'endotelio, e cosa succede lì? Aumenta anche le molecole di adesione, cellulare, vascolare, su una superficie diventa pro-coagulante, pro-trombotica, ma soprattutto, guardate, quando si parla di adesione monocita all'endotelio, e trasmigrazione, con cambiamento in macrofagi, si arriva al flusso dell'LDL ossidate, non più, attenzione, LDL, ma che sarebbero utilissime, LDL non più riconosciute, ossidate, glicate, quindi modificate, significa andare all'arteriosclerosi. E quanto ci vuole a fare questo processo? dai 30 a 40 anni, quindi quando, attenzione, un collega, a 60 anni, una donna che ha, scusami te lo dico, significhi che sei un cardiologo, se io ti dico a 60 anni, c'ho le arterie perbie, proprio pulitissime, e mi dai una statina perché c'ho un colestero a 220, ma devi mettermi in galera, mi devi mettermi, no, no, è vero, ma no, è vero, perché la mia aspettativa di vita, se non ho diabete, ha almeno 35-40 anni, quindi morirai a 95 anni, di problemi cardiovascolari, poi ti possono ammazzare per altri motivi, però ho capito, questo, quello che dice Libby, o che ha detto Ross, e quando lo vai a dire ai colleghi medici di ambulatorio, dice, ma tu hai segnato le LDL ossidate, e ho detto, ma guarda, un bravo medico, Vanna, ma guarda, è sul Robin Scottran, è sul Rubin, sui testi sacri della patologia, accidenti fa, dopo, non me ne ero accorto, non l'ha fatto dimenticare, e appunto, te l'hanno fatto dimenticare, cioè infatti, ho detto, guarda, è solo quando è modificato, allora mi fa, dice, ma dovremmo fare anche altre piante ossidanti, infatti, infatti, e non lo fai, certo, uno dice, c'è tanta roba, per dire, mangio cacao, ma certo, perché guardate là, un esempio, tutto molto positivo, che il ruolo del cacao veramente fosse positivo, del tè nero, con i polifenoli, ma sono tanti, tipo lo stesso tervede, che io amo tanto, la stessa curcumina, che io straamo, per fare un esempio, guardate come agiscono sulla famosa nitrossidosintasi, per produrre nitrossido, oppure bloccano i fattori, diciamo, vasocostrittori aferogeni, eccoli qua, ma, ducissi in fundo, eh Giorgio, non si poteva parlare di questo, ma perché, ma a parte, ma perché, proprio Sergio, quando si parlava di stangio protezione, diceva, vedi, quel lavoro lì, questo lavoro famoso, poi hai fatto il lavoro che c'è in sala, il mio amico Franco Canestrari, che non lo vedo, eccolo là Franco, dopo il tuo lavoro, il primo lavoro che tu hai dimostrato, che era antiossidante, eccetera, tutti i suoi lavori tristutali, e sulle cellule che tu hai fatto, giustamente, poi è seguito da, il gruppo della Ferrero, ma la Ferrero cosa ha studiato? Ha studiato l'endotelio, le cellule endoteliali, cioè non a caso, quando ci ho parlato con la Maria Elena, mi disse, e non è un caso, cioè lei ha studiato anche l'HIF1 alfa, di cui tu parlavi, caro Ciro, cioè già allora, tutti i fattori, quindi mitocondrio, ma soprattutto, vedete, ha chiappato il subcellulare, nelle cellule endoteliali, dice, non è un caso che ho scelto le cellule endoteliali, non era un caso, ecco perché è importante, questo aspetto, cioè quando si lavora, si guarda gli organi target, che lavorano in maniera efficace, e certo, poi, oggi, con l'amico, io non ci sarò, perché so che lo presento, presenteremo il libro, che abbiamo scritto, lì, ho scritto un capitolo, insieme nel libro di Francesco, coordinato, ciò che c'è anche Giorgio, sulla fibromialgia, certamente ho parlato di questo studio, ma diciamo, qui da una patologia, dove si lavora sempre in sinergia, perché la differenza tra la farmacologia classica, etica, chiamiamola così, e quella, diciamo, integrata, chiamiamola, io sono pronunciata da sostanze naturali, o denusaceutici, è che si lavora step by step, cioè non devo risolvere un sintomo o un problema, devo lavorarci tutta la vita, si dice, quando prendi il te verde, quando lo prendi, come dicevi giustamente tu, scusamente, Ciro, lo prendo tutta la vita, cioè tutte le mattine io mi alzo e prendo le statue di te verde, perché così sono stati dimostrati gli studi, cioè i giapponesi se lo prendono 5-6 tazze al giorno, e quindi ecco perché, ma non solo, ma guardate che anche, quando Dianzi parlavi, per esempio, dove Luigi, Luigi Montano, Dianzi parlava per esempio dei famosi discorsi di metalli pesanti che vanno a rompere le scatole ai canali ionici, e non a caso, e poi lavorare sul mitocondrio, ecco perché anche lo studio che ha fatto poi sempre lo stesso gruppo sul discorso della relazione, colunita al self-food per ristorare il mitocondrio, guardava l'alluminio e riguardava, guarda caso anche, poi anche, vedete, anche dopo, altri metalli pesanti, dopo un trattamento di creazione, ma ristoro del mitocondrio. Allora, tutto questo ovviamente era un antipasto, per farvi capire, questo benedetto indoterio non ce lo scordiamo. Allora, organo indoterio, organo testino, organo, che poi è bellissimo, finisco con questo, una volta sul giornale c'era scritto, scoperto un nuovo organo, 3-4 anni fa, la matrice extracellulare, ha detto, buonanotte, grazie, vado a dire, è un organo importantissimo, no, pazzesco, alla fine però diciamo, subcellulare, uniamoci anche il mitocondrio, e quindi tutte queste cose verranno ovviamente ben trattate, come è giusto che sia, perché oggi è una carrellata, dove tutti noi colleghi vogliamo fornire la platea, diciamo, e poi anche un'occasione ogni anno, devo dire, di trovare, infatti rivederti te Marina, è stata un'emozione, veramente, perché, cioè, però ritrovare anche tutti questi colleghi dopo un anno, cioè, magari ci troviamo alcuni anche prima, però tutti insieme in un anno, vi assicuro, la famosa stare insieme, la famosa coagulazione, ma non trombotica, ma stavolta, ma stavolta anticoagulante, che fa proprio bene. Grazie.